Devo dire che a distanza di qualche settimana, forse un mese, due mesi, mi ritrovo a parlare di trasporti in questa bellissima sala. All'epoca si parlava di Artico e all'epoca feci già una citazione sul Mediterraneo parlando di Artico, mettendoli un po' in confronto e trovandoli per certi versi anche abbastanza simili, almeno come attori e soggetti geopolitici. Nel senso che ripresi una definizione del Mediterraneo data da alcuni geografi del gruppo napoletano della Federico II, che definirono il Mediterraneo come un esempio di geografia della complessità forse unico al mondo. Certo, è emerso anche oggi, fino adesso credo che siano stati posti sul tavolo dei temi che ci confermano l'esistenza di questa complessità dell'analisi del Mediterraneo e dell'Europa del Sud. Oggi il tema è il Mediterraneo, vi parlerò anche un po' del resto dell'Europa. Però prima di entrare nello specifico dei trasporti, in realtà ho preso degli appunti dagli interventi precedenti. Devo dire che la complessità che ci fa riflettere sul Mediterraneo, in realtà il Mediterraneo è un crocevia, è una frattura, è una frontiera dal punto di vista geopolitico, ancora non se ne è parlato, però vorrei anche un po' sollecitare, visto che poi l'ISAC è un istituto di studi geopolitici, quindi sollecitare una riflessione anche sul ruolo geopolitico del Mediterraneo oggi, non soltanto come area in cui convergono gli interessi o meglio convergono le posizioni, le situazioni dei paesi più deboli dell'Europa, ma come una riflessione sul ruolo geopolitico del Mediterraneo anche in un contesto globalizzato. Ora, il Mediterraneo è un soggetto globale? Domanda? Sono delle domande che possiamo porci, magari poi ne possiamo aprire un dibattito anche con il pubblico. Io ho difficoltà a vedere il Mediterraneo, a individuare nel Mediterraneo un soggetto globale oggi, forse non è più interessante, post-guerra fredda ormai il Mediterraneo l'ha relegato a attore geopolitico secondario, per cui gli affari dell'immigrazione sono affari dei paesi della riva sud dell'Europa, quindi della sponda nord del Mediterraneo, se la vedessero loro. Gli americani hanno interesse nel Mediterraneo, sì, ma fino a un certo punto, sì, ci sono state le crisi, le primavere arabe, però poi sono state risolte in maniera anche abbastanza così confusa, con dei ruoli non ben definiti, chi è intervenuto prima, chi dopo, per determinati interessi e qui ovviamente l'Europa ha mostrato tutta la sua disorganicità. Il problema del Medio Oriente è un problema che sta lì, è un fuoco accesa, una brace accesa, ogni tanto con un po' di alcol prende fuoco, ma comunque sta lì, non si è risolto. E allora che ruolo geopolitico per il Mediterraneo? Ecco questa è la domanda, ripeto, al di fuori del mio intervento che avevo preparato, ma che mi è un po' venuto spontaneo, insomma, è obbligatorio anche fare in relazione agli interventi precedenti. Quindi riflettiamo su questo. Il Mediterraneo è un'area, a mio avviso, in forte crisi, fortissima crisi di identità. Lo vedremo anche attraverso il settore, il mondo dei trasporti, perché c'è questa crisi del Mediterraneo. Nonostante il Mediterraneo, avesse delle grandissime potenzialità. Ecco, guardiamo il mondo dei trasporti, perché è uno degli anelli, dei punti fondamentali del trasporto cosiddetto giramondo marittimo, 75%, l'80% quasi delle merci mondiali segue questa rotta. O c'è un indiano, Suez, Mediterraneo, Oceano Atlantico, Stati Uniti. Eppure il Mediterraneo, se andiamo a vedere i dati dei commerci, lo accennava prima il professor Trivulsi, è comunque un mare marginale, un'area marginale. Perché questo? Quindi ecco, volevo sollecitare anche magari dare uno spunto a Daniele Scalea e a Tiberio Graziani per magari organizzare una ulteriore giornata di studi proprio sul ruolo geopolitico del Mediterraneo, come soggetto geopolitico. Quindi ancora non sappiamo se questo benedetto Mediterraneo sia un'area di frattura o un'area di unione. Ancora non si è capito. Nei rapporti con il Nord Africa, vediamo ad esempio nel settore dei trasporti, non è vero che il Nord Africa ci è amico da questo punto di vista. Il Nord Africa, i porti nordafricani sono concorrenti per il Mediterraneo, ACP che sono concorrenti. Pensiamo che Portside è passato da 600.000 container movimentati quattro anni fa a 3 milioni di container movimentati l'anno scorso. E li ha tolti sostanzialmente a gioia e tauro perché la Maersk, che è il gigante della logistica mondiale, ha deciso così d'emblé in una giornata di spostare il suo hub a Portside per vari motivi. Non ultimo il fatto che il costo del lavoro è leggermente più basso a Portside rispetto a gioia e tauro. Magari ci sono anche meno problemi sindacali, magari ci sono tutta una serie di fattori che hanno consigliato la Maersk per avere più vantaggio competitivo nel trasporto round world di spostare il suo hub alle Mediterraneo a Portside. E allora dobbiamo vedere la sponda nordafricana come cooperativa o come competitiva? Questa è un'altra domanda che dobbiamo porci. Ci sono dei fattori incontrovertibili legati al costo del lavoro soprattutto, che determinano una maggior competitività per certi versi oggi della sponda nordafricana. E questo ha svantaggio dell'Europa. Allora evidentemente ci si deve sedere intorno a un tavolo comune per cercare una soluzione di questo problema. Proprio perché il Mediterraneo se un ruolo geopolitico l'ha perso nel post-guerra fredda, un ruolo geopolitico barra geoeconomico deve valutarlo e deve riconsiderarlo e deve sfruttarlo, tra virgolette, proprio in ottica trasportistica. Però qui mi bongo altre domande. Il Mediterraneo parliamo di trasporti marittimi, parliamo di grosse infrastrutture. Prima il dottor Raimondi appunto si preannunciava, anzi si aspettava forse da me qualcosa sulla questa nuova politica infrastrutturale per il Mediterraneo. Sono moderatamente favorevole a un'infrastrutturazione pesante del Mediterraneo nel senso della portualità. Nel senso che il Mediterraneo, parliamo dell'Italia, che è il contesto che conosciamo meglio anche perché poi è sostanzialmente diverso al contesto spagnolo, ha una forte vocazione turistica, abbiamo detto prima. Ora questo turismo, altro punto di domanda, altra parentesi, fa bene o fa male? È un'opportunità o comunque è un settore che va gestito, il cui sviluppo va gestito? Perché non dimentichiamoci che poi dall'altra parte c'è una tutela ambientale che poi è il vero valore delle coste italiane, la tutela ambientale, fortunatamente ancora ancora non troppo devastate come ad esempio le coste spagnole. Perché noi poi decantiamo, glorifichiamo lo sviluppo spagnolo, lo sviluppo turistico spagnolo, ma non ci dimentichiamo che in Spagna su 2000 km di costa mediterranea circa la metà sono tutte cementificate, tutte, indiscriminatamente. Ci va bene questo modello di sviluppo? Beh, se ci va bene allora parliamo, ne investiamo, facciamo la banca del Mediterraneo, spendiamo 40-50 miliardi per cementificare le nostre coste, per costruire dei grandi porti container, però dopo dobbiamo sapere che dall'altra parte c'è magari una perdita di competitività dal punto di vista dell'attrattività paesaggistica e quindi è un po' un cane che si morde nella coda. Allora le cose bisogna farle con attenzione, con criterio, cercando di sfruttare quello che già l'Italia ha. Ora, che cosa ha l'Italia dal punto di vista dei trasporti marittimi, perché è questo di cui stiamo parlando? Ha già circa un centinaio di porti, in realtà i porti attivi sono circa 270, però sono porti anche molto piccoli, concentrati per la maggior parte al sud, c'è molta frammentazione nei porti meridionali, meno frammentazione nei porti del settentrione, soprattutto nell'Alto Adriatico e nell'Alto Tirreno. Ora, una azione intelligente che sarà fatta da un po' di tempo, dal 2010, se non ricordo male, è quella della messa in rete dei porti italiani già esistenti, cioè nella gestione, faccio un passo indietro, quindi l'Italia già ha una forte infrastrutturazione portuale, il problema è che non è efficiente o meglio è poco efficiente. Ora, ad esempio, nel Nord Adriatico è stato creato nel 2010 questo progetto, il cosiddetto Nord Adriatic Port Association, l'associazione dei porti del Nord Adriatico, da Capodistria, Fiume, a Ravenna, in realtà Ravenna è uscita l'anno scorso, ma sta entrando Chioggia, quindi Trieste, Venezia, che mette in rete appunto questi porti, cioè li specializza per determinate tipologie di merci, rinfuse solide, liquide, container, ecco già il fatto di aver creato un'associazione, di mettersi in rete, di utilizzare dei sistemi informatici comuni, ha comunque consentito a questo sistema dei porti del Nord Adriatico di aumentare del 30% la propria quota di mercato nel Mediterraneo e questo è un fatto positivo, ma senza fare nulla, senza costruire sostanzialmente infrastrutture impattanti e per fortuna mettendo un attimo da parte quella, secondo il mio punto di vista, follia di voler costruire un porto offshore nella laguna di Venezia, per dire. La stessa cosa stanno facendo, notizia di pochissimo tempo fa, Genova e Savona, di mettersi in rete, di cooperare, di non essere porti competitivi, ma porti complementari sulle tipologie di merci. È chiaro che questa è un po' la prima via allo sviluppo, poi sono d'accordo sul fatto che i porti vanno migliorati, infrastrutturati, implementati, magari la lunghezza delle banchine va rivista, va rivisto il pescaggio perché oggi le porta container sono molto più grandi, hanno pescaggi anche di 16-17 metri per cui devono creare dei fondali, però ripeto, il problema non è così semplice, non si risolve su una carta geografica perché ragionando su una carta geografica si rischia di fare quello che ha fatto la Commissione europea negli anni, cioè negli ultimi vent'anni, cioè prendendo la carta dell'Europa, prendendo la carta delle infrastrutture esistenti e ad esempio nel 93 stilare la lista dei 14 progetti prioritari e poi subito dopo nel 94 a Creta e poi nel 97 a Helsinki la lista, il disegno dei cosiddetti e famigerati corridoi che sono stati disegnati sulla carta geografica senza rendersi nemmeno conto di che cosa ci fosse su quel territorio. Da qui è uscito il famoso progetto della Lione-Torino che tanti problemi ha sollevato, giusto o non giusto, non so qui a dire se sono favorevole al TAV o meno, è comunque un progetto disegnato sulla carta, non è stato un progetto che è stato disegnato o meglio coordinato con le popolazioni locali, tant'è che la bomba è scoppiata. La rivolta del TAV in Val di Susa è una rivolta della... lasciamo da parte un attimo il problema e le connessioni ideologiche, ma è un problema che è uscito dal territorio, la popolazione che si è ribellata semplicemente, perché le popolazioni nelle politiche dei trasporti europei non sono mai state ascoltate, sono state politiche fatte sulla carta, con righe e squadra, dico io sempre ai miei studenti e questo non va bene evidentemente, perché il territorio deve essere rispettato, il territorio con la sua componente antropica. Tra l'altro queste politiche, scusate se adesso passo dal Mediterraneo all'Europa continentale, ma torniamo subito poi verso la conclusione del Mediterraneo, sono state eurocentriche, certo non mediterraneocentriche. La politica dei 14 progetti, le politiche hanno marginalmente il Mediterraneo, le politiche dei corridoi sì, la toccavano al porto di Trieste, ma non erano certamente politiche che avevano un'ottica di sviluppo del barcino del Mediterraneo, allora questo Mediterraneo dall'Europa è stato veramente marginalizzato, non c'è una vera politica mediterranea dei trasporti, se non quella sull'autostrada del mare che è stata introdotta una quindicina d'anni fa, ma che quello che mi risulta non abbia avuto assolutamente una mole di investimenti tali da far sperare, da farci veramente credere nella realizzazione degli obiettivi che questo progetto aveva in animo, cioè quello di portare attraverso le navi veloci tutti i container e le merci che invece transitavano sui camion sulle autostrade italiane e spagnole. Il risultato è stato che in dieci anni appena il 3,5% delle merci è stato spostato dalla strada al mare. Adesso al di là della quantità di investimenti giusti o non giusti di chi li ha gestiti male o bene, è il risultato che conta, il 3,5% è risultato assolutamente marginale. Quindi diciamo che l'autostrada del mare è un progetto, a mio avviso, se è proprio non fallito, ma comunque non è proprio riuscito bene al 100%. Ora bisogna ragionare evidentemente su questo. Ecco io sono molto d'accordo con la proposta del dottor Raimondi di creare una banca del Mediterraneo con progetti mirati soprattutto lì, soprattutto sul discorso autostrade del mare, sulla creazione di strutture che non sono megaporti, ma di strutture adatte allo sviluppo di questa tipologia di trasporti e soprattutto strutture che possano favorire, ecco qui entro un altro brevemente tema che è stato sollevato prima dal professor Altriussi, che è quello dello scambio intramediterraneo. Scambio intramediterraneo che è la base per la creazione di un attore geopolitico e geoeconomico. Oggi gli scambi inframediterranei sono assolutamente marginali nel contesto degli scambi europei, scambi che devono necessariamente avvenire via mare e oggi soffrono appunto di questa difficoltà proprio di gestione dei trasporti perché i porti non sono adeguati a questa tipologia di traffici. Pensiamo che i traffici ro-ro, cioè i traffici rolling on, rolling off, che sono sostanzialmente i traffici tra due sponde di rimpettaie, tra Italia e Nord Africa sono cresciuti appena del 15% negli ultimi 5-6 anni, quindi una crescita molto bassa, quasi insignificante, quindi è lì che bisogna lavorare. Ora, ecco quindi tornando alle politiche europee per il Mediterraneo che sono state molto blande, molto marginali, a confronto con quello che invece è stata la politica europea sui corridoi ad esempio e sulle TEN che hanno addirittura, io mi scuso avevo preparato una presentazione ma vedo che non c'è lo strumento multimediale ma non fa niente ve lo racconto, che ha determinato addirittura lo spostamento del baricentro degli scambi europei dalla cosiddetta famosa banana blu individuata da Roger Brunet all'inizio degli anni Ottanta a quella che oggi viene chiamata la zucca arancione, che è un'area che dai paesi baltici comprende la Polonia, l'Ungheria fino alla Romania. Ecco oggi ci sono grandi incrementi di attività e di insediamento di imprese di logistica in quest'area che sta diventando sempre più baricentrica appunto negli scambi europei rispetto alla banana blu. Ecco mi chiedo perché questa non si possa invece creare un baricentro logistico nel cosiddetto arco latino visto che poi alla fine le merci che dal sud-est asiatico arrivano in Europa passano comunque proprio dall'arco latino, ma l'arco latino evidentemente non fermano, ma preferiscono andare a servire i porti del nord Europa che sono sempre più efficienti, più performanti eccetera. Ecco questa è un'altra breve riflessione, volevo parlare anche su questo. I porti del nord Europa sono i principali concorrenti del Mediterraneo, oggi movimentano ancora circa il doppio, due volte e mezzo, quasi tre, dei porti mediterranei. Perché questo? Hanno sicuramente un vantaggio competitivo che li deriva dalla storia, infrastrutturazione naturale, canali navigabili, fiumi, territori pianeggianti, il retroterra del porto di Genova sappiamo, c'è il Turchino, c'è il valico del Giovi, non so se non ricordo male, c'è una catena montuosa che è l'appendino che non è proprio semplice insomma bucare, anzi io credo che su Genova sia stato già fatto abbastanza, perché poi quando si dice e la politica ci dice bisogna dare un retroterra portuale a Genova, bisogna costruire delle infrastrutture retroportuali, probabilmente chi dice questo? A Genova non c'è mai stato, perché il territorio genovese, retroportuale è già tutto pieno di cemento, non c'è più niente da fare, non c'è, quindi o costruiamo una piattaforma in mare di tre chilometri quadrati, come è stato fatto per l'aeroporto o per il porto di Volte, oppure Genova sta lì, meno male che i genovesi e i savonesi si sono messi d'accordo, almeno si dividono un po' il traffico e le cose vanno avanti ancora per un po' di tempo evidentemente, certamente non è un progetto di lungo periodo, una soluzione di lungo periodo, per cui questi porti del nord Europa hanno questo vantaggio che gli ha dato la geografia, che gli ha dato anche la storia, perché non dimentichiamoci insomma dei successi commerciali delle fiandre piuttosto che dell'eleganze atica, e vantaggio competitivo che tra l'altro è mantenuto anche per il fatto che la legislazione europea impedisce il finanziamento pubblico nei porti. I porti sono diventati dei soggetti tra virgolette privati, gestiti dalle autorità portuali. Ora chi investe in un porto? Qual è il privato che investe in un porto? Il porto prevede degli investimenti enormi, dei costi fissi enormi, è un'infrastruttura che costa tantissimo, come una ferrovia, nessun privato investe nella costruzione dell'infrastruttura ferroviaria, investe sull'acquisto dei treni, di Italo, di NTV, di Trenitalia, sono sempre soggetti lo stesso privati, o meglio semiprivati, ma certamente non sull'infrastruttura, costa troppo, il ritorno sull'investimento è a 150 anni, non so, a volte questo gli economisti le sanno più di me. Però non poter investire denaro pubblico sui porti è chiaro che ha bloccato la situazione. I porti mediterranei sono rimasti al palo, i porti del nord Europa invece hanno sfruttato quel vantaggio competitivo che già avevano. Ora questo è chiaro che è inutile che ci sbattiamo per terra, la situazione è questa e non potrà migliorare di molto nel lungo periodo. Ora però per non essere catastrofisti e per non relegare definitivamente il Mediterraneo a un ruolo marginale nella geopolitica, nella geoeconomia mondiale, concludo dicendo che forse qualche speranza potrebbe esserci con due azioni. La prima è quella già accennata sulle autostrade del mare e quindi dello sviluppo del lancio del commercio infra-mediterraneo. Il secondo è quello di mettere in relazione fisica, quindi territoriale, attraverso la creazione anche di infrastrutture. I due sistemi che oggi sono competitivi, cioè Mediterraneo e mare del nord, piuttosto che Mediterraneo e Baltico, diciamo mari del sud europei e mari del nord, attraverso qui la realizzazione di infrastrutture. C'è stato ad esempio poco prima della creazione del Napa, credo l'anno prima, nel 2009, il lancio di una proposta di un cosiddetto corridoio baltico-adriatico. Si sono creati diversi tavoli di discussione di studio e stanno andando avanti, oggi il segretariato di questa infrastruttura è a Vienna, che è un'opera che prevede un'opera intelligente, cioè la messa in relazione, cioè in collegamento fisico di due sistemi marittimi, quello adriatico, quindi che si riferisce al Mediterraneo e quindi a Suez, e quello baltico che sappiamo è un bacino marittimo in forte espansione, sia per la presenza comunque della Russia, ma delle economie baltiche che sono economie dinamiche. Ecco, la stessa cosa si potrebbe fare rivitalizzando, ecco qui magari io concentrerei l'attenzione piuttosto che sulla tab in Val di Susa, il cosiddetto corridoio Genova-Rotterdam, sempre nominato PP24, che potrebbe dare quel famoso retroterra a Genova, che oggi Genova non ha, ma non è costruendo, infrastrutturando il porto di Genova, che si dà retroterra e efficienza al porto di Genova. Il porto di Genova soltanto se si mette in relazione con altri porti, come ad esempio quelli del mare del nord, probabilmente potrà avere un ruolo di gateway per il Mediterraneo maggiore di quello che è attualmente. Non dimentichiamoci che i porti del Mediterraneo nelle rotte Giramondo permettono un risparmio di circa 4.500 km rispetto alla rotta che poi termina appunto al porto di Rotterdam. Questo significa circa 350 kg in meno di emissione di CO2, quindi un impatto ambientale non indifferente, inferiore. Quindi io vedo che per il Mediterraneo una possibile via d'uscita a questa situazione di stallo, quindi è la messa a sistema con quelli che oggi sono competitori, cioè mare del nord e mar baltico. Credo di essermi dilungato anche troppo, quindi chiudo qui il mio intervento. Grazie. Grazie.